Ciao amici, credo che come me abbiate visto il telegiornale fino adesso, no? Quindi avete letto, vi siete impauriti, vi siete giustamente messi tanto per cambiare paura, però io stasera sono veramente incazzato nero e ve lo dico dal mio isolamento, per cui chi più di me ve lo può dire. Allora, intanto, questi dati sono falsi, sono falsi, perché tu un rapporto tra chi guarisce e chi muore lo fai soltanto se hai la certezza di quanti sono i malati. Cristo Santo, se tu non fai i tamponi a tutti, non puoi sapere chi muore e chi campa esattamente percentualmente quant'è. È evidente che se tu fai i tamponi soltanto a questi poveri disgraziati morti, perché la mia storia di sintomatico, di medico a contatto, eccetera, te lo dimostra, di me non sa un cazzo nessuno. Io non rientro nei numeri e probabilmente sono un contagiato. E quindi, che me auguro, gliel'ha fatta. Per cui, cazzarola, i numeri non sono questi. Non vi fate abbindolare. Non è così che si fanno le cose per bene. Se tu fai i tamponi a tutti e ti muore il 30%, puoi dire che il 30% e che la mortalità del 30%. Ma se tu fai il tampone soltanto a sti cadaveri che ti arrivano, che ormai hanno 39 di febbre, tosse pazzesca, difficoltà respiratorie che hanno più di 80 anni e muoiono, poi a voi in televisione mi vengono a raccontare sta stronzata. E di medici come me, ma di persone come me, prendiamo dei medici che stanno comunque... probabilmente contagiati. Non sapete, se guariremo, non rientreremo nelle statistiche. Cioè, mettetevi in testa che alla fine di tutta sta storia, e ve lo sottoscrivo, la mortalità di questo cazzo di virus, va bene? Arriverà all'1, 1,5%. Questa è la verità. Perché non abbiamo idea di quanta gente è malata. Non l'abbiamo idea. Abbiamo soltanto quelli che stanno in ospedale, e soltanto a questi hanno fatto il tampone. In Corea l'hanno fatto a tutti, e allora hanno dei numeri più corretti. In Cina l'hanno fatto a tutti, e hanno dei numeri più corretti. In Germania lo stanno facendo a tutti. In questo stato di merda, in cui il tampone non te lo fanno, e vi raccontano un'altra cazzata, non perché manca, come dire, quella stecchetta che vi mettono in gola, che forse vanno fatto per fare lo strep da cocco beta quando eravate ragazzini. Quelli ce ne stanno, per cui anche quella polemica ne abbiamo spediti mezzo milione in America. Ma di che? Dei pezzetti di plastica? Quelli ce ne trovi quanto te ne pare. Sai cosa mancano? I reagenti, poi, quando tu hai questa cosa, devi leggere, mancano i microscopi, mancano i reagenti. Questo manca. Il personale che li legge. E sai perché? Perché hai tagliato la sanità. Tu, brutto, pezzo di merda, di politico, che oggi non sai che fare. Capisci? E ti nascondi. Caro Zingaretti, ti sei boccato il coronavirus, e il pischello che la sera ti viene a prendere la pressione e tutte le cose, probabilmente, a 800 euro al mese. E perché tu gli hai tagliato tutto. Perché se i tamponi non si fanno in un'emergenza del genere, è colpa tua e di quegli altri grandissimi pezzi di merda di politici di tutte le fasce, intendo dire, che hanno tagliato la sanità. Che è un'eccellenza italiana nei medici. Perché io che ho vissuto anche all'estero, vi dico che i medici non hanno niente da imparare da altri medici di altre nazioni. Ma hanno altre strutture. Hanno altre strutture nel mondo. Hanno altre capacità. C'hanno tante altre sale. Hanno tante altre cose che noi non abbiamo. E adesso quest'altra cosa assurda, assurda, di chiamare medici, reperire medici in tutta Italia. leggevo adesso il telegiornale. Questo spirito. Ma vaffanculo che nell'università c'è il numero chiuso. Ci sarebbero un sacco di ragazzi che vogliono fare i medici. No. Alla Cattolica 2000. 2000 hanno fatto la richiesta e sono entrati in 50. In 50. Perché si fa di tutto per rendere miserabile questa professione. Resa miserabile nel tempo da una classe politica di merda. E oggi devi riclutare i 24enni che chissà poracci che deve andare. Almeno loro. Anche lì. Leggo questa del telegiornale ha detto di tutte le età dai 30 agli 80. Ecco, bravi. Magari negli avamposti non ci mandate gli 80enni. Così il numero dei medici 80enni così il numero dei morti salirà ancora di più. Capisci? Poi mi viene a dire gli angeli gli angeli dei medici. Ma angeli dei medici di che? Ci siamo rotti il cazzo noi come classe medica di sentire ste stronzate stronzate basta di cazzate e vi prego anche voi cercate di leggerli i numeri non vi fate prendere il cuore non vi impaurite questo virus è pericoloso per carità del cielo ma non come cercano di farci credere perché la scelta di chiudere tutta la nazione è dettata dal fatto che non possiamo fare i tamponi quindi hanno chiuso una nazione ma tutti rendi conto che cosa hanno fatto questi. una follia e mo vedremo che succederà nel tempo e ancora hanno la colpa i runner vi prego vi prego ragionate con le vostre teste vi prego ragionate con le vostre teste i runner o quelli che portano fuori cani questi sono gli autori ma davvero vi prego ragazzi io vi scongiuro stasera scusate mi girano i coglioni perché forse sono da dieci giorni in isolamento e quindi mi gira il culo però francamente non ne posso più di sentire tutte queste cazzate vi prego aprite gli occhi protestate se volete ricordatevi ricordatevi di queste paure di questo tempo perché ne usciremo un giorno però questa storia queste cose restano queste cose sicuramente noi medici queste cose restano sta presa per il culo adesso gli eroi gli eroi di che ma vaffanculo va gli eroi adesso gli eroi col camice bianco sta retorica di merda ma chi vi si incula chiaramente non voi pazienti o comunque civili voi che vi siete trovati davanti sto treno addosso che non sapete gestire che l'avete gestito male dall'inizio e che non l'avete altro che l'eccellenza italiana la merda italiana l'eccellenza italiana di che qual è l'eccellenza l'eccellenza sarebbe stata avere la possibilità di fare rampone a tutti e discriminare chi ce l'ha o chi non ce l'ha isolavi chi ce l'ha infine come l'ha fatto la Corea il Giappone un mese un mese ma tutti in Giappone stavamo tutti per strada un mese è durato Cristo ancora che domani magari il giorno non so quando speriamo presto che la curva finalmente si abbassa urrà urrà la classe politica Winston Churchill Giuseppi hai capito Winston Churchill Giuseppi tutti contenti vaffanculo noi non ce ne dimenticheremo di questo e voi per favore per carità con le dovute con tutte le cautele però state sereni state tranquilli che quelle cose che leggete sono drogate non sono giuste non ce ne dimenticheremo non ce ne dimenticheremo